cari bambine cari bambini siamo arrivati alla sesta avventura del viaggio di Samantha nello spazio in compagnia della civetta brigida e dello scoiattolino risparmioso Gellindo Ghiande d'Oro per questa sesta puntata cari miei quello che non doveva capitare è invece successo dopo sei meglio dopo cinque puntate dopo cinque tappe nello spazio la povera Samantha comincia a piangere di nostalgia ma non voglio dirvi niente e andiamo avanti con la storia con la fiaba di oggi il titolo della fiaba è il sogno di Samantha quel lungo viaggio nell'universo sembrava non dovesse mai terminare l'astronave risparmiolandia prima procedeva nel più perfetto silenzio mentre Gellindo Ghiande d'Oro Brigida e Samantha ammiravano senza parole lo stupendo spettacolo che si godeva dai finestrini per la prima volta però la bambina era triste continuava a pensare alla sua mamma al suo papà che erano rimasti sulla terra rivedeva la sua stanzetta i giocattoli la vecchia bambola preferita Caterina becca bimbi Caterina becca bimbi mi viene da piangere chissà quanto tempo era trascorso dal momento in cui la navicella spaziale costruita con legno di betulla si era sollevata dalla valle di risparmiolandia per schizzare verso il cielo cullata dalla navicella che dondolava piano piano a destra e a sinistra Samantha chiuse gli occhi e si addormentò facendo uno strano sogno era l'alba anzi era l'alba del giorno del compleanno di Samantha prima di sera la nostra amica avrebbe festeggiato gli otto anni pensate un po la bimba camminava lungo uno stretto sentierino che costeggiando un laghetto arrivava nel pieno del bosco delle venti querce pareva che tutti gli alberi ancora umidi di rugiada si inchinassero al suo passaggio o che bella bimba esclamò allegro il signor abete buon compleanno piccola sussurrò messer faggio quanti anni compi oggi domandò la signora quercia ne compio otto rispose Samantha ma allora dobbiamo farti un regalo intervenne ser mandorlo ecco bambina prendi pure la mandorla che vedi sul ramo più basso sì proprio quella è il regalo del bosco delle venti querce per il tuo compleanno con tanti auguri cento di questi giorni trascorri bene questo giorno di festa e fatti anche vedere da queste parti Samantha lungo una mano afferrò la mandorla ancora verde e si trovò tra le mani come per magia una mandorla d'oro vecchino che bella pensò mirando il gioiello potrei farne un pendente da infilare in una catenina e da portare sempre appeso al collo non è mai prudente camminare sulla riva di un lago con la testa che pensa a catenine e a mandorle d'oro infatti la bimba inciampò e saluto splaff Samantha cadde nel lago non sapeva ancora nuotare la piccolina d'altronde gli otto anni gli avrebbe compiuti proprio quel giorno e quindi non poteva ancora considerarsi una bambina grande sprofondò Samantha scivolò giù 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 e appena toccò il fondo del lago si guardò attorno le si avvicinò un pesce salve clu 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 salve bambina io sono clu clu trota valentina cosa ci fai qua giù glu glu ecco sono sono caduta per errore non so nuotare e cosa stringi nella mano oh questo è un regalo degli alberi del bosco delle ventiquerce sai per il mio compleanno è una mandorla d'oro puro ma non mi dire oggi è la tua festa quanti anni compi otto benissimo allora non voglio essere da meno di quei quattro alberi rinci trulliti che stanno di sopra glu 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 questo è il mio regalo e la trota porse a Samantha un sassolino la bambina lungò la mano prese il sasso e ma è d'argento un sassolino d'argento brillante certo rispose valentina la trota che regalo sarebbe glu 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 se non fosse anche prezioso ma lasciamo perdere le chiacchiere attaccati bene la mia coda che ti riporto a riva glu 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 ritornata velocemente sul sentiero Samantha salutò il pesce grazie di cuore trota valentina e proseguì il cammino a dire il vero arrivata a quel punto della storia la bambina non ricordava più il motivo che l'aveva spinta all'alba del suo ottavo compleanno a venire proprio nel bosco delle venti querce il viotolo comunque la condusse in un immenso prato costellato di genzianelle pieno zeppo di animali riconobbe cervi camosci scoiattoli caprioli orsi lupi anche lumache civete e stava ancora ammirando quello zoo all'aria aperta quando all'improvviso cento zampe l'afferrarono e no no cosa fate cosa volete da me no lasciatemi andare ogni protesta fu inutile gli animali costrinsero Samantha a salire su un'astronave di legno di betulla ma prima che il portellone fosse chiuso dall'esterno fece capolino la testa di una civetta che parlò in fretta in fretta mi dispiace che sia toccata proprio a te bambina ma qui nella valle di risparmiolandia nessuno voleva collaudare la navicella spaziale di gerlindo ghiande d'oro il nostro scoiattolo inventore e allora abbiamo deciso di spedire nello spazio chiunque fosse passato da queste parti la prima persona il primo forestiero che si faceva vedere qui e sei capitata tu comunque il pasticcio è fatto prendi questa ghianda come porta fortuna e arrivederci forse Samantha non capiva più nulla ma lungo la mano prese la ghianda era fatta di rame pesante e la mise in tasca assieme alla mandorla d'oro zecchino e al sasso d'argento brillante non arrivò nemmeno a dire grazie che sfim l'astronave sfrecciò verso il cielo trascorsero solo cinque o sei secondi almeno così parvi a Samantha quando una gigantesca mano di cristallo azzurro afferrò l'astronave e un vocione ghignò soddisfatto e adesso sei finalmente mia prigioniera Samantha mi sono sempre piaciuti i bambini a colazione no ti prego cristallione perché tu sei il terribile cristallione vero ti supplico lasciami andare ascolta in cambio della mia libertà ti regalo questa mandorla d'oro zecchino e cosa me ne faccio di una mandorla dorata e allora ti darò anche questo bellissimo sasso d'argento brillante è ancora troppo poco cara mia la tua libertà vale molto 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 di più e va bene se ti interessa anche questa ghianda di rame pesante sarà tua fammi vedere che bella sì 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 dammi anche la ghianda ti lascerò andare libera tuttavia non appena Samantha ebbe consegnato all'invisibile cristallione tutti i suoi tre regali di compleanno la mano di cristallo si alzò nello spazio e certo che ti lascerò andare ma al di là dei confini dell'universo ecco così e swim la gigantesca mano lanciò il razzo di legno di bettulla con a bordo la povera Samantha proprio verso il limite dell'universo al di là del quale c'è solo il nulla no 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 urlò la bambina Samantha che cos'hai perché striglia quel modo la voce dolce buona di brigida scosse la bambina che si liberò da quel brutto incubo si stroppicciò gli occhi e oh che bello per fortuna era solo un sogno un brutto sogno meno male perché se fossi uscita dall'universo mi sarei ritrovata nel nulla più vuoto e ma queste cosa sono oh mamma mia guardate strillò tirando fuori di tasca e mostrando a gelinda e a brigida una mandorla d'oro zecchino un sasso d'argento brillante una ghianda di rame pesante ma allora non era un incubo era tutto vero proprio in quell'istante la risparmiolandia prima ebbe un violento sussulto come se qualcosa di gigantesco una mano trasparente di cristallo l'avesse afferrata all'improvviso Samantha intuiva già chi poteva essere in malvagio e tremendo re cristallione e sapeva anche che una nuova avventura si stava preparando doveva essere un sogno riposante quello della nostra povera Samantha invece è stato un sogno molto avventuroso e pieno di mostri cattivi mostri cattivi che li troveremo anche nella prossima tappa non vi annuncio altro voi state buoni fate i bravi in casa non fate troppi capricci fate i compiti senza lamentarvi accenderemo assieme un'altra volta la nostra fantasia per superare questo periodo un po difficile un po pesante un po noioso va bene allora ciao